ho riposato benissimo che dormita ragazzi howdy duty oggi ci aspetta una giornata perfetta in campagna howdy duty ragazzi che dormita in campagna si riposa benissimo col pretesto che stamattina galoppiamo quindi ci vuole molta forza ho ordinato una bella colazione abbondante qui al Pony Ranch non vedo l'ora howdy duty dopo questa bella cavalcata un po' di relax in piscina perfetto dopo una bella giornata così la macchina non la voglio neanche vedere ceniamo qui al Pony Ranch tutti i prodotti a chilometro zero tutti i vegetali dell'orto buonissimo e domani magari andiamo a Suio Terme a Minturno ma stasera la finiamo qua questa bellissima giornata vediamo un po' ciao 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 ciao